Beh sicuramente questa norma introdotta ha dato la possibilità di intervenire laddove prima non era possibile e l'ordine dei dottori commercialisti ovviamente è presente perché già da tempo ha affrontato il tema della crisi societaria e oggi quella familiare, quindi credo che sarà un tema molto importante, sentito e l'affluenza presso i nostri enti è talmente alta che ci dà parvenza di concretezza e di aver creduto molto in questa nuova norma che ci dà la possibilità di intervenire in un momento difficile del quotidiano della popolazione, della collettività che purtroppo prima non era assolutamente asservita.